Cosa? Come dici? Possiamo finalmente stare tranquilli? Ma certo che no! Perché pochi giorni fa, e per la precisione il giorno della vigilia di Natale, è successa una cosa epocale che ha sconvolto il mondo informatico. Tuttavia qualche furbacchione ha pensato di starsene zitto zitto, un po' per non fare una figuraccia, e un po' perché c'erano le feste di mezzo, e non ha diffuso un'informazione importantissima che riguarda tantissimi computer, tra cui sicuramente il mio, e molto probabilmente, mi dispiace dirtelo, anche il tuo. Per fortuna basta fare un'operazione semplicissima per mettersi al sicuro, ma che bisogna fare prima possibile onde evitare di correre grossi grossissimi rischi. E allora cosa stiamo qui a perdere tempo? Ci tuffiamo a capofitto nell'argomento del giorno. E quindi, se ti senti pronto, iniziamo! Ed eccoci qui anche oggi, con poche ore di sonno, l'influenza, la tosse e gli occhi pesti, a fare i conti ancora una volta con loro. Ma come chi? Le nostre carissime divinità del tubo! Coloro che possono essere tanto benevole quanto malevole e influenzare la vita dei nostri video e soprattutto di tutta quanta la nostra community. E allora procediamo senza meno con il nostro consueto rituale apotropaico, nella speranza di riuscire anche oggi a blandirle e rendercele amiche. Disclaimer! I contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti, va! Ebbene, per continuare c'è bisogno che tu ci creda o meno che io ti racconti una piccola favola di Natale. Ebbene sì, ti chiedo di immaginare questo. Ti chiami Astolfo, nome di fantasia. Sei uno sviluppatore che lavora per un'importante casa che crea delle estensioni di sicurezza per Chrome che si chiama Cyberhaven, questo è il nome vero, è la vigilia di Natale. Il tuo ufficio è quasi vuoto perché tutti i colleghi sono già andati a casa, sono le 18 di sera e tu sei lì che non vedi l'ora di finire di lavorare, andartene anche tu a casa e goderti il cenone, gli amici, la famiglia e soprattutto le vacanze. Ma proprio in quel momento arriva un'email che ti fa letteralmente gelare il sangue nelle vene. In questa email c'è scritto che la tua estensione verrà immediatamente rimossa dal Chrome Web Store per un problema sulla policy di sicurezza. Caspita, se non risolvi subito questa cosa, la tua estensione verrà messa KO, la gente non potrà utilizzarla e la tua compagnia sarà bloccata per chissà quanto tempo, visto che di mezzo ci sono proprio le vacanze di Natale. Ma per fortuna nella mail c'è un link che ti basta cliccare per andare a risolvere tutto in pochi minuti e passare delle vacanze serene. O forse no. E già, perché devi sapere che nel mondo esistevano esattamente altre 33 persone nelle stesse identiche condizioni del nostro povero astolfo che volevano solo tornarsene a casa a mangiare il panettone e hanno fatto clic sullo stesso link. Ebbene, quei 34 clic hanno causato letteralmente una apocalisse che ha influenzato la bellezza di 2,6 milioni di computer in tutto il mondo. Ma aspetta, perché ti faccio vedere un articolo e ne parliamo meglio. Ma, effetti speciali, faccio la transizione al volo, senza passare dal via. Ti apro questo articolo tratto da una rivista americana che ho tradotto in italiano perché ci sono anche degli articoli su delle testate di settore italiano, ogni tanto la voce va via ma tu non ci farei caso, che parlano della stessa cosa ma in maniera meno precisa. Vediamo di che cosa si tratta. Il nostro articolo titola è il momento di controllare se hai eseguito una di queste 33, in realtà sono 34, lo ribadisco perché c'è stato un ulteriore aggiornamento dopo l'uscita di questo articolo, estensioni dannose di Chrome. Ebbene sì, se infatti leggiamo più accuratamente il contenuto dell'articolo scopriamo che, mentre molti di noi celebravano le festività di fine anno, un piccolo gruppo di ricercatori ha lavorato straordinariamente per fare una scoperta sorprendente. Almeno 33, ribadisco 34, estensioni del browser ospitate sul Chrome Web Store di Google, alcune delle quali risalenti addirittura a 18 mesi fa, stavano sottraendo furtivamente dati sensibili da circa 2,6 milioni di dispositivi. Le compromissioni sono venute alla luce quando il servizio di prevenzione della perdita di dati di CyberAven, la società di cui ti ho parlato poco fa, ha scoperto che una estensione di Chrome utilizzata da 400.000 dei suoi clienti era stata aggiornata con un codice che rubava i loro dati sensibili. Ma attenzione! Facendo anche i cosiddetti conti della serva, vediamo che se un'estensione, per quanto importante, aveva già da sola 400.000 clienti che la utilizzavano e che erano stati infettati, puoi immaginare che il numero complessivo su 34 estensioni abbastanza famose sia decisamente superiore ai 2,6 milioni citati in questo articolo. Se continuiamo nella lettura dell'articolo, scopriamo che questa estensione di CyberAven è stata progettata per impedire agli utenti di immettere inadvertitamente dei dati sensibili nelle mail oppure nei siti web che visitano. Tuttavia, l'analisi della versione 24.10.4, quella infetta per capirci, ha mostrato che era configurata per funzionare con diversi payload. Ma che cos'è un payload? Un payload è la parte dannosa di un malware, ovvero quella parte di codice che fa qualcosa ad insaputa dell'utente e contro la volontà dell'utente. Questi payload che sono stati recuperati dalle versioni infette scandagliavano i dispositivi degli utenti alla ricerca di cookie del browser e credenziali di autenticazione per il dominio facebook.com. Inoltre, un altro payload separato, che è stato recuperato da un'altra azienda di sicurezza, rubava invece cookies e credenziali per chatgpt.com. Solo per curiosità e molto rapidamente ti mostro la copia della mail che ha ricevuto il nostro povero Astolfo, solo per farti capire che tutto quanto questo gigantesco patatrack è derivato semplicemente dal suo click su questo pulsante go to policy. Ma andiamo avanti e vediamo, visto che nell'articolo non sono riportate uno per uno i nomi di queste estensioni potenzialmente pericolose. Ti mostrerò naturalmente anche come verificare molto semplicemente e rapidamente se sono presenti nel tuo pc e ovviamente anche come eliminarle. Ma allora, ricapitolando, che cosa può succederti nel momento in cui scopri di avere una o più di queste estensioni installate sul tuo google chrome? Beh, la risposta più onesta che ti posso dare è che nessuno lo sa ancora con precisione. Quello che sappiamo per certo è che se utilizzi facebook e probabilmente se utilizzi chat gpt le tue credenziali di accesso possono essere sottratte, rubate e utilizzate da malintenzionati. L'elenco di queste estensioni te lo mostro qui a sinistra grazie ai potenti mezzi della gentiluomo digitale production. Ma che cosa dobbiamo fare a questo punto? Beh, quello che ti suggerisco vivamente di fare è di mettere in pausa questo video dopo aver assistito alla breve spiegazione che ti darò di come rimuovere le estensioni infette in modo da poter controllare l'elenco sulla parte sinistra del video e poter eseguire sulla parte destra le operazioni. L'operazione da fare è questa. Andare qui in alto dove c'è questo tassello di puzzle, cliccarci e vedrai che verranno elencate tutte quante le tue estensioni. Dovrai controllarle con un elenco che compare qui a sinistra e verificare che nessuno di questi nomi corrisponda ad una delle estensioni infette. Nel caso in cui una o più di queste estensioni dovessero essere infette, come puoi vedere in questo caso, tutto quello che dovrai fare sarà semplicemente un clic in corrispondenza della relativa estensione su questi tre puntini, andare qui su rimuovi da Chrome, cliccarci su e rimuovere l'estensione. Tutto qui. Mi raccomando, accertati che nessuna delle estensioni che hai installato su qualsiasi dei tuoi browser, non solo su Google Chrome, sia nella blacklist di quelle incriminate. Nel caso ripeti la procedura che ti ho mostrato per ciascuna estensione potenzialmente infetta è, almeno da questo punto di vista, potrai dormire dei sonni tranquilli. Ma con l'aiuto di una caramella alpino, nel tentativo disperato di lenire un pochino la tosse incombente che ho, passiamo ai ringraziamenti del giorno, che quest'oggi vanno a Carmine Silvio Aquino, Carlo Nidasio, Biagio Politi, Luigi Perazzo, Abdirisak, Nur Addos, spero di averlo detto bene, Marco Tozzi, Guido Sapigni, Vincenzo Giannone, Giacomo Baliana e a basta, che si sono abbonati, bar hanno rinnovato il loro abbonamento alla community dei gentiluomini e quindi dal profondo del cuore, cari amici, vi do il benvenuti o il ben rimasti a bordo, ma attenzione, fermi tutti, perché dobbiamo ringraziare anche Nicola Nannerini, Michael Romerings ed anche Amleto61 che si sono sì abbonati o hanno rinnovato l'abbonamento, ma in qualità di distinti gentiluomini ed è per me un onore togliermi il cappello farlocco ancora una volta davanti a voi. Ma non abbiamo finito, perché abbiamo anche dei ringraziamenti per Marco Favi, Giorgio Brusasco, Stefano Petrolini in arte Petrus, Giuseppe S., Maurizio Andrenacci e Mimmo Langiano, che hanno invece voluto contribuire alla vita della nostra community per mezzo dei loro generosissimi super grazie. E quindi, cari ragazzi, anche a voi un ringraziamento da parte mia e di tutta la community dal profondo del cuore. Ma fermati, non andare via perché c'è ancora un ringraziamento da fare. E sì, è quello destinato proprio a te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima. Io vado a tossire.